Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza Domani 20 giugno alle ore 8.30 per 509.000 studenti in tutta Italia scatta l'ora X Domani è il giorno della prima prova d'esame di maturità, una sorta di rito di contrapasso Si chiude un ciclo, quello scolastico della vita adolescenziale E ci si proietta nella vita degli adulti, per molti nel mondo universitario Cambiando decisamente registro Nelle Marche però sono 14.000 i maturandi, 2.918 nella provincia di Pesaro con 40 candidati esterni Dove sono state nominate 72 commissioni per un totale di 143 classi quinte Gestite da un esercito di 253 commissari nominati Puntualmente come ogni anno è scattato il tototracce Tra bufale e calcoli probabilistici si va dal sequestro Moro All'ottantesimo della promulgazione delle leggi razziali Al settantesimo anniversario della Costituzione italiana Passando anche dal duecentesimo di Karl Marx E dal 50 anni dal 68 E perché no, mettiamoci anche i 25 anni dalla morte di Pablo Escobar Riportato in auge dalla serie televisiva Narcos Tutto molto bello e tutto molto fantasioso Non per niente per evitare i tranelli e le bufale Nelle quali ingenui studenti alla ricerca di scorciatoie Possono accadere Anche la polizia postale delle comunicazioni Ha lanciato una campagna di informazione sulle bufale in rete Non potevano essere tagliati fuori da questo zibaldone cabalistico Il toto autori Leopardi, Foscolo, Ungaretti, i più gettonati Ma si sente parlare anche di Danunzio o De Amicis Con il suo libro cuore Senza tralasciare Cesare Pavese E perché no, i 190 anni della nascita di Julius Verne Il padre della fantascienza Con le sue 20.000 leghe sotto i mari Fantascienza appunto Ma per restare ben accorati alla realtà Valgono le disposizioni del Miur Una su tutte Il divieto assoluto di utilizzare i cellulari O apparecchiature connesse alla rete Ma per tutti vale naturalmente il vademecum ministeriale Sì orologio, no smartphone Sì calcolatrici, no calcolatrici CAS o con wireless Sì al vocabolario, no ai libri di testo Sì al rispetto delle regole e no ai trucchi Ma soprattutto no panico E buona maturità a tutti No per i voi